Oh, non c'è un go! Ma ci chiamano signori, ma non c'è! No, non ho fatto appunto! Tutto sotto, vai! Ha sofferto? Ah, ma ti fa parlare! Questa è la nostra tradizionale? Che ci mette? Sugna, olio, foglie di allò, pomodoro e un pizzico di salsina, un doppio concentrato. Non è un po' di rinforzamento, ma non è un po' di rinforzamento, ma non è un po' di rinforzamento. Il nostro canale è che il nostro canale è di mêmes esperti adCC per un collaboratore colore. È la nostra tradizione, è la nostra tradizione, un'altra persona è la nostra tradizione. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti